Per l'amministrazione del tuo condominio, rivolgiti a studio amico, competenza, sedetà e professionalità. Richiedi un preventivo ai numeri in sovraimpressione. Mentre a livello nazionale si discute sulla legalizzazione dell'uso della cannabis, prosegue l'attività di prevenzione delle forze dell'ordine contro la coltivazione della canapa. Il pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava dei Tirreni hanno perquisito un'abitazione ubicata in una zona collinare della cittadina metelliana a seguito dei rapporti su una specifica attività investigativa che avevano destato il fondato sospetto della coltivazione di piante di cannabis indica o stativa in una zona ben precisa di Cava dei Tirreni. Nel corso dell'operazione i poliziotti hanno trovato sulla terrazza dell'appartamento diverse piante di canapa, dell'altezza di circa 1,50 m, nascoste alla visuale da tende. Nel sottotetto attivo alla terrazza, inoltre gli agenti hanno rinvenuto fogliame steso ad essiccare per la produzione di marijuana da destinare allo spaccio. Le piante sono state estirpate, sequestrate e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il proprietario dell'abitazione, identificato per un 45enne cavese, è stato pertanto indagato in stato di libertà presso la competente autorità giudiziaria per il reato di coltivazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.